Cari amici ben ritrovati, guardiamo insieme anche per oggi le condizioni medio climatiche. Dopo una relativa tregua che su molte regioni ripartirà il sole, la situazione tenderà nuovamente a peggiorare cominciando dalla giornata di sabato, particolarmente sui settori occidentali. Colpa della terza perturbazione del mese di novembre che da ovest porterà sull'Italia un carico di pioggia. La fase più acuta del maltempo si avrà tra sabato e domenica, anche se già nella giornata di venerdì le regioni settentrionali saranno interessate da una nuolosità. Piogge più intense sono attese prima al nord, poi sulle regioni centrali tirreniche e su parte del meridione, particolarmente su Campania e Sicilia. E per l'inizio della prossima settimana tale perturbazione potrebbe generare una depressione sul Mediterraneo, la quale contribuirà a mantenere condizioni di instabilità su tutta l'Italia, con possibili peggioramenti per metà mese. Ovviamente special nord, in conseguenza anche delle precipitazioni, avremo un clima abbastanza freddo ed umido, mentre al centro e dal sud le correnti sciroccali garantiranno ancora temperature molto umiti che tenderanno a diminuire con l'arrivo delle precipitazioni. Per la giornata odierna comunque è assicurato ancora bel tempo su tutta l'Italia, così come al sud, dove la giornata nel complesso sarà stabile ed ampiamente soleggiata. Ed infatti anche sulla nostra provincia cielo sereno e temperature in netta ripresa, con valori di 20 gradi le massime e minime di 14 nella notte. Venti deboli soffieranno da nord e nord-ovest ed il mare nello stretto di Messina sarà tra il poco mosso ed il mosso. Sul versante tirenico soleggiamento diffuso, le temperature anche qui in ripresa si porteranno a 19 gradi diurni, con minime di 15 nella notte. I venti di debole intensità soffieranno da nord e nord-ovest e da ovest nella sera ed il martireno sarà anche qui tra il poco mosso ed il mosso. Sul versante ionico bel tempo e temperature comprese tra 18 e 12 gradi. I venti di debole intensità soffieranno da ovest e nord-ovest e da nord-ovest nella sera ed il marionio sarà mosso. Nella giornata di venerdì 9 novembre inizia a cambiare il tempo al centro nord con nubi sparse e qualche precipitazione non esclusa su Alpi e Liguria. Bello al sud, così come sulla nostra provincia, con un'ennesima giornata serena e soleggiata, con temperature gradevoli comprese tra 21 ed 11 gradi. Venti moderati soffieranno da nord e nord-ovest ed i mari saranno poco mosso sia il tirreno che lo ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani!